Paola Marella, architetto e conduttrice televisiva di grande successo, è scomparsa all'età di 61 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di molti. La sua morte, avvenuta dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno, ha scosso il mondo della televisione e i suoi numerosi fan. Marella era conosciuta principalmente per il suo lavoro su Real Time, dove ha saputo conquistare il pubblico con la sua passione per l'architettura e il design. La carriera di Paola Marella è iniziata nel mondo dell'architettura, ma è stata la sua presenza in televisione a renderla una figura iconica. Ha partecipato a diverse trasmissioni, tra cui Casa su misura e i Cerco casa disperatamente, dove ha condiviso la sua esperienza e le sue competenze nel settore immobiliare. La sua capacità di comunicare con il pubblico e il suo approccio genuino hanno fatto sì che diventasse una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Purtroppo, la vita della Marella è stata segnata da una lotta contro il cancro. Nel 2011 le era stato diagnosticato un tumore al seno dopo la scoperta di un nodulo, ma era riuscita a superare la malattia. Tuttavia, negli anni successivi, ha dovuto affrontare nuove sfide legate alla salute con le recidive del cancro che sono venute a farle visita. Recentemente, era stata colpita da un secondo tumore che si è rivelato fatale. La notizia della sua morte ha suscitato una grande commozione tra i suoi fan e colleghi, molti dei quali hanno condiviso messaggi di cordoglio sui social media. La battaglia di Paola contro la malattia non è stata solo una prova personale, ha anche rappresentato un esempio di resilienza e determinazione. La sua volontà di continuare a lavorare e a ispirare gli altri nonostante le difficoltà ha lasciato un segno profondo in chi l'ha seguita. Tre giorni prima della sua morte, Paola aveva pubblicato un post sui social media, dimostrando ancora una volta la sua forza d'animo. Oltre alla carriera professionale, Paola Marella era anche una madre affettuosa e una persona amata da amici e familiari. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo per il mondo dello spettacolo, ma anche per tutti coloro che l'hanno conosciuta personalmente. I suoi fan e colleghi continueranno a ricordarla come un'icona del design e della televisione italiana, ma soprattutto come una donna coraggiosa che ha affrontato la vita con dignità fino all'ultimo respiro. Lascia il marito Nico e il figlio Nicola.